Nel centro di Teramo questa mattina si respirava, anche se attraverso le mascherine, un'aria diversa, un'aria di lento ritorno ad una quasi normalità. Riaprono i negozi di abbigliamento per bambini, ma non tutti, le ottiche allungano l'orario di apertura oltre le emergenze consentite e poi ci sono le librerie, che con emozione ritornano, ma non tutte, ad accogliere il proprio pubblico di lettori. Alla fine è un giorno positivo, nonostante la difficoltà del momento, ovviamente bisogna essere fiduciosi e quindi l'apertura delle librerie in questo caso bisogna vederla in un atto di fiducia verso un paese che prima o poi avrà una ripresa, nonostante sarà lunga e complessa. Adesso sto sanificando i locali, che comunque avevo sanificato anche prima della chiusura forzata, però per eccesso di zelo facciamo questo ulteriore servizio per la tutela della salute pubblica. Un servizio particolarmente apprezzato durante questa quarantena è stato quello della consegna del libro a domicilio, pane per la mente. Ha funzionato tanto, ringrazio tutte quelle persone che mi hanno contattato, con molte delle quali sono diventato anche amico, c'è stato un percorso empatico tra di noi, continuerò nel pomeriggio quindi a fare consegna a domicilio, che penso sia la soluzione migliore, ancora la soluzione migliore in questo contesto. Ma la sorpresa più grande è sapere che i terramani durante questa forzata clausura in casa hanno preferito leggere o rileggere i classici. Hanno letto di tutto, dalla narrativa contemporanea a quella diciamo più umanistica e antica. Devo dire che io offro una selezione molto particolare di libri, quindi hanno letto un po' di tutto, dai, molti classici e sono contento. Intanto per strada ci sono file un po' dovunque, davanti agli uffici postali, alle farmacie, ai supermercati, alle banche. La più lunga però è ancora quella davanti agli uffici comunali di Teramo, che rilasciano i buoni pasto e le informazioni sui sussidi di povertà.